Ciao a tutti gli amici di AMF Channel Benvenuti a un aggiornamento speciale sul Grande Fratello. Oggi esploreremo gli ultimi sondaggi sul Grande Fratello, e la situazione è sorprendente. Beatrice Luzzi continua a dominare la classifica con il 51% dei voti nel primo sondaggio, confermandosi saldamente in testa. Contrariamente a quanto circola sul web, la sua posizione è stabile. Segue Letizia Petris al secondo posto con 26%, molto votata con onore, e al terzo vittorio, che ha perso consensi, col 16%. Stefano Miele occupa l'ultima posizione con l'8% in questo primo sondaggio e sembrerebbe essere il prossimo eliminato della prossima settimana. Ma ora passiamo al secondo sondaggio, che ci chiede, chi vuoi salvare? Ancora una volta, Beatrice Luzzi si conferma in testa con il 50% dei voti, seguita da Letizia con il 26%, Vittorio con il 15%, e Stefano con l'8%. Notate che il secondo sondaggio conta circa 800 voti, mentre il primo ne ha ben 1.495. Questo solleva dubbi sulla sua affidabilità, ma sembra che il primo sia più rappresentativo. Nonostante le polemiche e qualche indebolimento, si sta cercando di minare la posizione di Beatrice all'interno della casa, ma sembra impossibile. Il televoto rimane la forza trainante del grande fratello, come dimostrano i sondaggi. Beatrice resta la preferita del pubblico. Cosa ne pensate voi? Chi è il vostro preferito? Ditelo nei commenti. Se questo aggiornamento vi è piaciuto, mettete un pollice in su e continuate a seguirci su AMF Channel. La situazione è in continua evoluzione, eviteremo aggiornati su tutti gli sviluppi.